Ero in doccia! Buongiorno! Apriamo? Una moto! Enea cos'è? Moto! Guarda, guarda! Moto! Accendi! Sì, va a vedere perché non lo so, ma sono più bravo! Vieni il volante, vieni il volante! Bravo! 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 Buongiorno! Buongiorno! Scusa? 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 Dai dai dai, tu sei la mia? Dai dai, soffia! Dai dai, che bravo! Alla, pronti? Uuuuuh, saluto! Dai dai dai! Ehi, bravo! Grazie a tutti Grazie a tutti